Si migliora in decima ma attenzione perché è pole, pole, pole position per Luca Rondelli Attenzione che parte meglio Don Frank dietro, si affianca già, si fa vedere già, prende tutta la scelta di Pavanna, Pavanna prende benissimo la prima posizione E pole position per Donna Ruma Pole position, giro veloce e vittoria di Marco Donna Ruma, cerca di tirargli la staccata, lo chiude però, lo chiude, fa girare il Rondelli E anche Pedercini di beneficio però sono lì, ruota ruota, cerca la staccatona Guaraldi su Pedercini che passa, attenzione dietro ancora, ruota ruota tra Fontana e Pavanna, la meglio Fontana Cinelli prende l'interno, ok, cross di tradettoria, si girano, si girano Cinelli all'interno che passa, anche Fontana si prendono Cerca di richiudere la traiettoria Dennis su Stefano, Stefano resiste, passa ancora Ancora una volta Brenno, Brenno dietro, Brenno si girano Signori che partenza di Don Frank, affionda, che si prende subito la leader Attenzione, ci può essere sorpasso, vanno assieme, è l'ultima variante C'è un affiancamento a Don Frank con Salerno, che vanno assieme per Curva 9 Sono ancora assieme, ruota, ruota va sull'esterno, Don Frank Molto pericoloso qua, e passa a Don Frank con forza Vince Cinelli, per 19 millesi, che colla sangue a Pedercini, vince Oh, che mostro, si è ruota, ruota, con Frank, Pedercini, si gira Pedercini Sono tre wide, tre wide, e lo mettono a palino Pedercini al centro Passa Signorelli, oh, si gira da una ruba Si gira da un'artelicoloso, si prende Che è pole, pole position per Don Frank, nel finale di stagione Inezione Rondelli, su Cilani, Rondelli, su Cilani, per la basso decisiva, passa Rondelli Ultimo giro, finisce sotto a Setti Signori e signori, Don Frank vince Il Gran Premio di Abu David è campione È campione, Don Frank, di Atom Esports Ciao, ciao, ciao Ciao Ciao